Slitta l'edizione 2021 di Oro Arezzo in programma dal 12 al 15 giugno all'Arezzo Fiere Congressi e va così al 2022. La decisione è stata presa da Italian Exhibition Group. Nonostante il fatto che il sistema fieristico italiano possa finalmente contare su una roadmap della ripresa delle attività, comunque soltanto da luglio in poi, insieme ai più favorevoli criteri per la mobilità delle persone da regione a regione, come annunciato ieri dal governo, mancano ancora a livello internazionale condizioni uniformi per la mobilità delle persone, sia in ingresso che in uscita dai rispettivi paesi. Spiega quindi Yegg, annunciando il rinvio, questo si traduce in una situazione di incertezza che non offre sufficienti garanzie per un'edizione della manifestazione con il profilo internazionale che da sempre la caratterizza. Si è trattato di una decisione condivisa con tutte le associazioni di riferimento, quelle quali Yegg ha un confronto frequente produttivo nel disegno e programmazione delle sue manifestazioni. I protagonisti del mercato, spiegano ancora, convengono che l'attuale scenario non lascia immaginare che già a giugno 2021 possano raggiungere Arezzo i grandi buyer dai mercati strategici dell'export italiano. Oro Arezzo tornerà quindi nel 2022 e tornerà in presenza. Le iniziative digitali si sono rivelate utili a mantenere contatto con i buyer ed a crescere la visibilità delle collezioni, ma rimane altissima la richiesta e la volontà delle aziende di tornare a operare nei batiglioni fieristici con eventi dal vivo.